Circa una decina le porte che via via si sono chiuse, altrettante le classi finite in isolamento per casi accertati di contagio da coronavirus ad Arezzo. Forse nulla rispetto ai timori iniziali, ma comunque una situazione che non lascia indifferenti e che complica un quadro già complesso, fatto di ritardi nelle nomine e una nuova gestione degli spazi con cui fare conti. A finire in isolamento una classe del liceo scientifico Francesco Redi, che ha adottato la didattica a distanza dopo un caso positivo, non è stato ovviamente coinvolto tutto l'istituto, ma dallo scorso lunedì alle ceo Redi si è passati alla didattica mista per tutti gli studenti, una decisione che è stata presa in via preventiva cautelativa con l'intento di salvaguardare le condizioni di salute degli studenti e del personale docente. La nuova organizzazione si articola infatti secondo uno schema di due settimane che si ripeterà fino a nuove comunicazioni da parte della preside. Le classi si alterneranno così tra didattica a distanza e lezioni in presenza per cercare di evitare la presenza contemporanea di tutti gli studenti, numerosi quelli dell'istituto, anche per evitare assembramenti. Due le classi invece finite in quarantena all'ITIS Galileo Galilei, dove si devono fare i conti anche con una mancanza di spazio e così sugli oltre 1700 studenti circa un sesto a turno, segue le lezioni da casa. Nessuna classe in isolamento e lezioni in presenza invece al liceo Colonna, dove però adesso è allarme spazi dopo il no del comune di Arezzo al Cadorna. Nessuna classe in quarantena nemmeno al liceo Piero della Francesca, dove si prosegue con una didattica in presenza come del resto all'istituto tecnico professionale, fatta eccezione per tre classi della sede Vasari, dove per mancanza di spazi è stata scelta la strada della didattica mista. Alcuni corsi, operatore del benessere oppure sociosanitario eccetera, sono delle classi abbastanza numerose, superano di gran lunga delle 20 unità e per cui si rendeva necessario anche in classi spaziose, comunque sia per mantenere il metro di distanza e tutto quello che serve era necessario prendere questa decisione.